Ciao mamme! Ciao papà! Ciao zie! Ciao nonne! O che peressi dai insomma! Ciao ragazzi! La scuola è ricominciata, come sta andando? Qui alla grande. Lannetta non vedeva l'ora. Aurora, la grande regia, fra pochissimi giorni comincia anche lei. Ed è un po'... un po' di ansietta, come dice lannetta, che la sera prima di cominciare scuola diceva, mamma, ho un po' di ansietta. Qui tutto ok. Io sono vestita da casa con la mia bella vestita, ma come vedete lo charme non manca mai, mi sono abbinata anche la serpa da casa. Se oggi volevo fare così. Oggi mi giravo il pepegnello così. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come sta andando. Ma anche, scusatemi eh, non mettiamo da parte, facciamo una scarpa e una ciabatta. Non mettiamo da parte chi non ha famiglia o non ha figli o eh, chi ha ricominciato a lavorare. Raccontatemi tutto che sono curiosissima. Vi voglio bene, continuate a fare bravi e imbacciati in aria.